Ciao ragazzi, oggi vorrei fare un nuovo video, da tanto che non li faccio, mi è venuta così l'ispirazione perché ho trovato in macchina una cosa figata ed è questa, le bolle, le bolle e vi dirò di più, queste bolle sono state vinte ieri alla mitica Sagra delle Rane in Santa Lucia di Piave alla pesca, queste insieme a un mitico detergente per mani, di marca, ripeto di marca, insomma adesso voglio provare a vedere se funzionano, se funzionano, allora agitare prima dell'uso, agitare prima dell'uso, vorrei farvi vedere che c'è la pallina, il giochetto della pallina classico, immancabile, comunque parentesi, Sagra delle Rane in Santa Lucia di Piave, una cosa strepitosa, un livello di ignoranza che era da molti anni che non si vedeva, fenomenale, fenomenale, allora adesso proveremo a vedere se le bolle funzionano dopo aver fatto questo incrocio, ok, allora, agitato abbiamo agitato, apriamo, apriamo bene, eccoci qua, sperando di non sbrodolarmi per bene, ecco mi sono sbrodolato, come immaginavo, c'è vista qualche bolla, ne riprovo un altro, porca miseria, mi sono sbrodolato, ne riproviamo un'altra, ne riproviamo un'altra, sono in difficoltà con le marce però, eh, mi sono smardato, ragazzi scusate un attimo la pausa, mi sono proprio smardato, faccio la rotonda, eccomi qua, sì, dovrei fare questi video in un altro momento, non, non mentre sto guidando, ma io ci provo lo stesso, mi piace rischiare, just do it, just do it, qui là, bene, basta perché sto facendo disastri, bene, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!